Sì, è fantastico di lasciare uno spazio. Piano, ad avanti, passai. Ascente l'assistra, addirittura la diva e volata per i 3.60. Oh, mi dovete toccare. Addirittura al disdotto dei 3 minuti al chilometro. Prima di un'altra volta. Abbiamo detto che il 3 minuti finali per la confusione di grana. I 3 atleti che sono andati a tagliare il fanno. Il primo, primo, è arrivato primo, grande. Ecco, i primi 3. Questi 3 atleti che hanno portato tutti e tre al di sotto dei 3 a 9 minuti. Vedete quanto altro sia il bambino di l'antaggio che ha preso nei confronti di tutti gli altri seguitori. Ed ecco, anche da rinforzare ancora via. Grazie a tutti, grazie a voi.